Cari studenti buongiorno a tutti, quest'oggi parleremo di Vassili Kandinsky, ho buona ragione per preoccuparmi perché ho la netta impressione di essermi cacciato in un bel pasticcio e questo perché sì, perché Vassili Kandinsky è talmente ampia e interessante la sua storia artistica che sarebbe quasi impossibile farne una monografia, insomma fare qualcosa che possa essere soddisfacente per l'intero arco dei suoi interessi, delle sue realizzazioni ed è per questo che probabilmente questa sarà una parte di altre parti della medesima lezione. Innanzitutto è mia intenzione collegarmi all'ultima lezione, quella in cui abbiamo parlato del tempo, del fatto che il tempo non esiste, che esiste un prima o un dopo e l'abbiamo fatto proprio per parlare degli artisti, del loro prima, del loro dopo e soprattutto per stimolarci ad avere un forte interesse per quello che ci sta in mezzo. Allora anche questa lezione seguirà un attimino quel fil rouge che avevamo proposto precedentemente. Allora innanzitutto quello che è necessario assolutamente fare una piccola introduzione che sarà poi il tema portante di questa prima parte di questa comunicazione che riguarda Vassili Kandinsky, una piccola parte di didascalica per capire un attimino dov'era, cosa faceva, cosa ha fatto, come si è mosso insomma nell'arco della sua vita, nasce nel 1866 e muore nel 44, quindi una certa età. Naturalmente parleremo di opere, ma la cosa più importante è che il prima di Vassili Kandinsky è l'avvocatura. Sta di fatto che lui i suoi primi 30 anni dal 1866 fino al 96 sono anni vissuti normalmente, è dedicato lo studio nella facoltà di legge, diventa un buon avvocato, pratica la professione. Ora mi sembrerebbe assurdo escludere che in quel periodo non avesse fatto qualche schizzo o non si fosse in qualche modo interessato ad arte, ma di certo non era la sua professione. Sta di fatto che nel 96 si trasferisce, va a Monaco e le esplode. Si dedica con molta dedizione allo studio dell'arte, inizia a produrre le sue prime opere, quindi è, se vogliamo, rispetto ad altri artisti considerati dei bambini prodigio sostanzialmente, un artista che ha un inizio di carriera piuttosto tardivo. Va a Monaco, inizia a dipingere, ha una storia importante d'amore, insomma fa quello che deve fare e da lì partirà il cammino che lo porterà ad essere ciò che è. Ciò che è tendenzialmente è riconosciuto insomma dalla letteratura normale come il padre dell'astrattismo. Questo è sicuramente vero, anche se sulla definizione padre di qualcosa, soprattutto in arte, io ho sempre dei dubbi che cerco di esprimere senza alcuna vena né polemica né da gran saputello, perché in realtà qualsiasi artista dal più lontano nel tempo a quello più contemporaneo sviluppa il proprio talento sempre anche in funzione a una serie piuttosto importante di ispirazioni, di riferimenti a quella che è stata l'arte precedente. E questo vale anche per le avanguardie quelle più toste, più aggressive, insomma. Per quanto avanguardie nascono, se non ispirate da qualcosa, ispirate dal non far qualcosa e questo comunque configura anche questo non far qualcosa come un padre genitore. Quindi ogni artista ha un padre, un nonno, un bisnonno, un trisnonno, degli zii che poi sono i protagonisti della sua formazione. Ecco, Kandinsky dopo essere stato a Monaco si trasferisce nel 1901 a Murnau, che è un paese della Germania in zona montana ed è lì che inizia la sua strepitosa, come si dice, il suo strepitoso, ripeto sempre strepitoso, più mi riguardano le altre lezioni, più mi esorto a non ripetere questo termine, ma è quello che calza meglio su certi discorsi. Si sposta a Murnau ed inizia una produzione fenomenale. Resterà a Murnau fino al 1908, nel 1909, sappiamo che dal 1911 al 1914 fonderà il Der Blau Reiter, che altro non è che il Cavaliere Azzurro, che è un movimento artistico di stampo espressionista che naturalmente poi vedrà la fine delle sue gesta con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale tornerà in Russia, farà parte della nomenclatura ufficiale appartenendo al Commissariato di Stato per l'Educazione Popolare ed è un lavoro che porterà avanti fino ai primi anni degli anni venti. Importantissimo il suo trasferimento nel 1922, sempre in Germania a Weimar, dove diventerà docente del Bauhaus, una scuola importantissima, che non ho nel tempo né nella possibilità di approfondire, ma naturalmente ogni cosa che vi segnalo deve essere da sprone ad essere indagata. E questo è molto importante. Dopo l'esperienza del Bauhaus, Kandinsky si trasferisce definitivamente a Parigi dove morirà. Un consiglio a chi visita Parigi, basta digitare Parigi Kandinsky e scoprirete che la quantità di opere dell'artista presenti nella capitale francese è sterminata, perché solitamente quando un artista muore in un posto c'è la tendenza da parte degli indigeni a fare incetta delle sue opere, solitamente devastando i loro atelier d'arte. Questa vuole essere una battuta, comunque vale abbastanza per tutti. Sappiamo che la Gioconda è in Francia perché lì l'ha lasciata Leonardo morendo e quindi questo è il risultato. Insomma, questo qui è una piccolissima introduzione sulla carriera generale di Kandinsky, chiamiamolo anche padre dell'astratismo, va bene anche chiamarlo padre dell'astratismo, ma come qualsiasi artista tra il prima e il dopo c'è sempre qualcosa in mezzo. Allora, lo scopo sicuramente di questa parte di lezione, delle successive, è proprio quella di capire cosa c'è in mezzo. Probabilmente la discussione sarebbe estesissima, quindi io ritengo di poter scegliere un punto nodale dello sviluppo di Kandinsky a cavallo tra la sua figuratività iniziale sostanzialmente di paesaggista, dove però già vedremo, sono contenuti prodromi della sua evoluzione sensitiva nei confronti della forma, del colore, del suono, perché ricordiamo che Vassili Kandinsky è stato anche un trattatista importantissimo, ha scritto dei libri complicati, anche a base scientifica, appoggiandosi un po' a quella che è la sua indole così, voglio dire, sinestatica. Cosa intendo dire? Kandinsky sembra uno che ha la sinestesia. La sinestesia cos'è? È una patologia medica sostanzialmente che colpisce pochissime persone al mondo e che fa sì che la percezione dei sensi, dei cinque sensi, sia distorta. Nel senso che ascoltando un profumo, chi ha la sinestesia in realtà vede un colore, quando vede un colore sente un profumo ed è una cosa che chi probabilmente ce l'ha mi direbbe ma è un bel guaio, però può essere anche una strepitosa qualità per un artista. Infatti, tornando al discorso della trattatistica di Kandinsky, ci sono alcune opere importantissime, soprattutto nel rapporto che lui trova tra il colore e la musica. Il violino è glicine, più che il contrabbasso è un nero o un senape chiaro. Insomma, c'è tutto un discorso che vi esorto anche in questo caso ad andare a indagare, cioè sulla trattatistica di Vassili Kandinsky. E questo è molto interessante. Allora cercheremo di concentrarci su una parte specifica della sua produzione, che è quella che va dal 1901 sostanzialmente al 1909. Cioè non proprio le sue prime esperienze, perché già usciva da un certo tipo di studi, di sperimentazione, ma che sono proprio le anticipazioni evidenti di quello che sarà poi il suo percorso verso l'astrattismo. Se c'è una figura che è assolutamente unica e riconoscibile proprio in questo stile, in questa corrente artistica è Vassili Kandinsky. Ecco che allora, anche legandomi non a una polemica, ma a una discussione che c'è da molto tempo in corso fra gli esperti, gli appassionati, fra chi insomma frequenta l'arte in una maniera piacevole, anche non per forza accademica, ci si chiede quanto il movimento FAUV, FAUV francese, possa avere influenzato Kandinsky. È il punto che io vorrei trattare in queste più parti delle lezioni, perché mi interessa personalmente capire se ci sono delle connessioni dirette o meno. Il FAUV, per farla breve, sono un movimento artistico francese, FAUV tradotto significa le belve, che a un certo punto della loro carriera decidono di esporre le loro opere in una esposizione accademica della Grande Ecole de Paris e le dipingono proprio in mezzo, fra l'altro, delle statue greche ed è tale l'impatto cromatico, la novità assoluta, il senso e il sapore di rivoluzione che queste opere, lavorando proprio sul colore e sulla sinestesia del colore, cioè utilizzando non solo colori in rapporto fra loro, ma completamente distorti rispetto alla percezione del reale, danno un tale impatto da essere chiamati le belve, ma questo lo vedremo più avanti. Naturalmente ogni tranche della lezione durerà al massimo 15 minuti, quindi la prima cosa che io necessito di farvi vedere come immagine è sostanzialmente la prima opera astratta di Vassili Kandinsky che risale al 1901 e che non ha titolo, sicuramente fa parte di quella serie di opere che un'altra parte, un'altra categoria di persone tra la quale sicuramente sono stato anche incluso io in tempi passati, a questa categoria di persone di solito viene naturale dire, ah questo l'avrei fatto anch'io, questo sappiamo che non è vero, non è una colpa pensarlo, però è un peccato pensarlo, perché questo ci limita, è vero o no, nella nostra indagine verso l'arte, quindi adesso in questo momento noi vedremo questa immagine, è un senza titolo, è un acquarello, eccolo, adesso lo potete osservare con più comodità, lo lascerei qualche secondo in più per potervelo far vedere ed è interessante perché proprio è collocabile all'interno di quella porzione di opere proprio dal 1901 fino al 1908, 1909 e in parte 1910 che sono in realtà il primo tentativo di Vassilio Kandinsky proprio di indirizzarsi verso l'astrattismo, quindi esiste già come se fosse un'idea primordiale messa giù di getto alla quale segue lo studio e il tentativo di capire da quale luogo e da quale sensazione per se stesso derivava la possibilità di rappresentare il mondo in maniera astratta. È interessante, sembra quasi un lavoro al contrario, produco un'opera che non so ancora essere astratta e lavoro in funzione della mia necessità di comprendere da dove proviene dall'interno di me stesso questo ancora nebuloso e ancora non studiato e non come si dice sviluppato senso estetico e percettivo del reale. Ecco, questo è diciamo un po' il percorso che vorremmo fare in queste due, tre, forse quattro parti di lezione proprio per poi concentrarsi su quella specifica produzione e vedere se quella produzione col mondo fove può avere dei legami particolari. Consideriamo che data l'età, data la quantità di viaggi che Kandinsky ha realizzato nella sua vita è tale la mole di artisti che ha incontrato che è evidente che abbia preso un pezzettino da ognuno di loro. Questo è lecito nell'arte, non significa copiare, non significa, come si dice, deturpare l'idea altrui, significa farsi ispirare. Sappiamo che Picasso dipinge le da Moselle d'Avignon con le loro espressioni africane dopo aver visto delle statuette africane che erano presenti, se non sbaglio, proprio a casa o di Cézanne che era andato a trovare. Insomma, quindi ci sono anche movimenti come il cubismo e artisti come Picasso che partono da un'ispirazione semplice, evidente e assolutamente in parte forse banale per poi sviluppare. Quindi abbiamo già visto la prima opera di di Vassili Kandinsky, siamo intorno ai 15 minuti, quindi io vi do appuntamento alla seconda parte della lezione in modo da poter incominciare a vedere una serie di opere abbastanza interessanti e incominciare a fare dei confronti. Quindi al momento vi saluto per qualche, non so quando potrò produrre la seconda parte, penso il prima possibile e vi do appuntamento al Vassili di Kandinsky parte 2. Ciao a tutti e buona giornata naturalmente.